Ciao ragazzi, lasciate perdere il caldo, non parliamo del caldo, video assaggi che mi avete richiesto voi in ASMR su alcuni prodotti americani presi da Lidl settimane fa, adesso non c'è più la settimana americana ma ci sono altri cibi, altre cose da Lidl, quindi vabbè, voglio anche farvi un video assaggi su questa barretta della Kellogg's miele, miele, mandorle e cereali, semi di zucca, assaggiamo anche questo, ma prima assaggiamo i cibi americani, altro, sto che ho fame, sono 4, voglio far male, prendiamo la palla al balzo e facciamo anche un po' di suoni ho comprato questi biscotti che non avevo mai provato, country cookies, apple alla mela sono così, proprio uguali alla foto, adesso li vedrete ci sono hoatz e cranberry, quindi quei frutti rossi che sono buonissimi, li compravo già l'anno scorso, praticamente tutti gli anni, compro sempre quelli e poi ci sono anche noci e macadamia, o nocciole e macadamia, no, cioccolato, cioccolate e macadamia, cioccolato e nocciole e macadamia, noci di macadamia e quelli è invitante, ma non li ho mai provati, quelli con cioccolato e noci di macadamia questi qua invece, Dino li ha aperti, già settimane fa, quindi non posso fare il video apriamo insieme i biscotti, ma ne ho già quasi finiti tutti, scusate questi sono i biscotti, questa è la confezione in plastica costano tutti tra le confezioni 99 centesimi, quindi provateli se non li avete ancora provati e assaggiamole uno sono friabili, sono piccoli, abbastanza, rispetto alla mia faccia sono più piccoli e sono, diciamo, speciolosi, pieni di farina come state voi, tutto bene? fa caldo vero? mamma mia, non ne posso più questi biscotti subito, il primo morso, sono tantissimo di cannella di noci, di mandorle, di frumento, di farina, cereali a Dino piacciono, infatti li hanno lasciati tre, sono nauseantissimi secondo me c'è anche del miele dentro, perché sono veramente dolcissimi, quasi nauseanti e sanno pochissimo di mela, sanno tantissimo di uvetta, di miele, di roba dolce, nauseante chissà perché piacciono a Dino, forse perché stanno in uvetta, io per il mio gusto personale li sento nauseanti, e Dino che non ama le cose dolci, gli piacciono e li mangia tutti, praticamente li sta mangiando tutti lui, sono friabili, morbidi, ok, però sono nauseantissimi, non è che mi fanno impazzire, no, per niente io mi voglio anche parlare di una cosa farò video fino al mio compleanno, la settimana è il mio compleanno, non penso di farlo video ASMR, forse farò qualche vlog, ma non so neanche se caricarla, perché nessuno li guarda e poi ne criticano tutti, quindi non va bene e poi ad agosto vediamo se faccio video ASMR oppure no, voglio magari andare un po' in ferie e lasciare un po' vuoto, tra virgolette il canale andare in vacanza, non so se voi andate in vacanza, io non penso di andare in vacanza però, staccare un po' la spina, magari fare un giorno in montagna, un giorno al mare sarebbe bello, non si sa, vedremo anche perché se io registro i video, ricarico e nessuno li guarda, non va bene è l'utile che li registro se nessuno li guarda, perché sono tutti in vacanza comunque questi biscotti sono nauseantissimi, quindi ne basta uno e ho già la nausea provateli se volete gli metto tutti a rinno questi qua, che a lui piangono, li ha aperti ieri, sono quasi veniti poi voglio aprire questi qui, ma mi servono le forbici perché senza non riesco ad aprirli quindi apriamo prima la barretta e poi farò un altro video assaggi questa qui non è messa in frego, infatti è tutta bagnata amandes, soia, arachidi noiset contiene arachidi, mandorle, avena, latte, nocciola, anacardi e soia mi mangio solo un pezzo perché anche queste qui in generale 4, le ho mangiate tutte dino ne ho lasciata una ma è buonissima vedete com'è questa qui della Kellogg's, l'ho presa al penne in offerta ma mi piaceva di più quella con mandorle e miele e cioccolato invece che con mandorle e semi di zucca e miele non mi piace non mi piace non la finisco di sicuro non mi piace non mi piace sa solo di zucca non sale di mare di mandorle né di arachidi né di nocciola non sa niente sa solamente di zucca dolce pure questo nauseante prodotti top flop assolutamente bocciati per me e per il mio gusto non mi piacciono né questi vedi anche questa barretta con le nocciole provateli se volete ma a me non piace questa doveva sapere di arachidi, di mandorle, di miele, di nocciole e sa solo di semi di zucca non mi piace 4 se ne mangiate 3 praticamente qui invece sa di uvetta non sa per niente di mela sa solo di miele non di mela ma di miele quindi non mi piace assolutamente queste due cose non mi sono piaciute a presto